Mi sono svegliato stamattina Mi sono svegliato stamattina Ma che bella giornata che si prospetta Appena uscito il mio nuovo lavoretto, non da youtuber, non da videomaker, ma da grafico Ho fatto il... ma perché è horror? Sembra che abbia il rossetto Ho fatto la copertina al nuovo disco di Samuel Aaron Agli stivali? Hai comprato gli stivali mamma Salvi spesi bene Dai 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 Sul 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 Grazie 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 Grazie